Tutto in fila per Miss Italia, la giovanissima Stefania Bivone è venuta in una gioielleria di Via Cavour ieri sera, invitata dalla nota firma Miluna. Grande accoglienza da parte dei vittoriesi che hanno fatto la fila per una foto con la Miss. Un'accoglienza fantastica, non mi hanno mai fatto un'accoglienza così, sono davvero stupita, bella. È una bellissima città, molto piccola però molto bella. Orgogliosi i titolari al punto vendita che sono stati scelti dall'azienda come sede dello show. È difficile infatti rientrare tra i negozi selezionati da Miluna per il tradizionale Giro d'Italia della Miss. Un punto vendita che l'azienda ha scelto, visto la fiducia che hanno i nostri confronti e il lavoro che abbiamo fatto con loro. E se dentro c'era la fila, fuori non mancavano i fan che approfittavano nelle vetrine per rubare uno scatto. L'evento è terminato con un buffet per quanti attirati da Miss Italia si sono regati in negozio. L'evento è terminato con un buffet per quanti attirati da Miss.